Incendio questa mattina a Cittadella in via delle Signore. Paura per le fiamme in un appartamento abitato da una famiglia di 5 persone. Il rogo si sarebbe scatenato per motivi di natura elettrica. Un cortocircuito ha innescato le fiamme che hanno provocato un fumo denso che ha saturato l'aria dei locali. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e i carabinieri che hanno svolto i rilievi. Il personale del SUEM 118 ha preso in cura due intossicati portandoli al pronto soccorso di Cittadella per i primi accertamenti.